Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraftita Allora, come ho promesso oggi cerchiamo di fare un po' più di progres, progress, un po' di progresso Perché probabilmente domani mancherà Minecraftita Non è deciso, cioè non è che dici, ah martedì manca il video No, bisogna vedere che impegni ho il lunedì pomeriggio Dato che dobbiamo anche dedicare a Fabcraft e una registrazione di Fabcraft mi dura più o meno una settimana Invece una registrazione di Minecraftita mi dura solo il giorno dopo Ma preferirò registrare Fabcraft in questo modo a sapere tutta la settimana E probabilmente domani mancherà Minecraftita Comunque state sempre aggiornati sulla pagina Facebook perché là do tutte queste informazioni Allora, un paio di episodi fa ho parlato di fiumi Ho parlato di fiumi e di terraforming Ho pensato che sarebbe il caso di iniziare con questa parte dei progetti Perché è carina, è un progetto interessante Allora, quello che dobbiamo fare, quello che voglio fare è creare un fiume che passi attraverso qui la terra desolata La terra desolata finisca in mare E sopra questo fiume farci un ponte di legno, quella fighi Ora, fighi Dovrò fare un po' di sperimentazione in creative Il mio mondo in creative per far venire un bel ponte fuori Perché deve essere un bel ponte, se no non sono contento E la cosa però sembra interessante Bisogna farlo più o meno grande, questo fiume Come vedete là l'ho fatto curvare Inizio pensavo anche magari di Diciamo deturpare la seconda farm, quella di grano Oppure spostare, tipo mettere le patate di qua il grano Perché il grano è decisamente più importante per la funzione di nutrimento delle mucche E tipo farlo andare lì in mezzo e devastare un po' il tutto Però dopo sembrava tipo, non lo so, una frana che ha causato un cedimento di qualche tipo E allora ci si è creato un fiume Invece io voglio che sembri molto molto naturale come cosa Infatti questa diviazione è un po' forzata Un po' tanto forzata Però cercheremo di farla andare Ora vado a fare anche la seconda Diciamo, il secondo argine di questo fiume Sto usando la cobblestone anche se ci metti di più per scavarla poi Anche con la picca di diamante Perché ha più contrasto, no? Quindi se usi la terra poi è in casino perché magari diventa verde Allora non capisci bene Ah ma questo blocco era qui? No guarda non era qui Ti sto prendendo per il culo Più o meno così L'ho fatto partire Non so se vedete da qui Tipo più o meno da qui Da questa zona qui Ve lo faccio vedere perché penso possa essere interessante Inizialmente volevo far uscire direttamente dalla montagna Invece ho deciso di far uscire dal fianco Cioè da qui Questo è l'inizio Della fine No ok, è l'inizio E come dimensione Allora come dimensione dobbiamo basarci tipo qui Perché qui è dove ci sarà il ponte Io voglio che il ponte sia più o meno lungo Quindi almeno tipo fino A qui Secondo me ci può stare Capisci? Queste sono più o meno le dimensioni Che andremo a cercare Poi se riusciamo a creare anche qualcosa tipo così Molto variegato Tipo alla frutta Variegata al caffè Ok la smetto Scusate No non lo faccio apposta Tipo Così Così E così A un certo punto ho anche pensato Teniamo la cobblestone Avete presente Ora Non l'avrete presente perché non c'è da tenerlo presente Però Aspetta Forse mi com'è di continuare un po' Sì Comunque quello che volevo Stavo dicendo Avete presente tipo Quei Quei canali Non sono proprio fiumi Sono proprio canali Sono tipo dei piccoli fossati Che hanno Vabbè il percorso d'acqua Queste sono nelle grandi città di solito Appare Di qua insomma Che c'hanno le Gli argini in pietra naturalmente No Essendo in città di qua di là Immaginate che ora l'acqua Vada tutto di lì E immaginate che io Lasci gli alberi là Immaginatevelo con Tanta erba alta attorno Quindi tutte quelle le evolveremo di secondo grado Minchia siamo l'unica azione di secondo No lascia stare Non parlare di matematica E E così insomma Scusate Ora Con quell'albero lì Sembra che la cosa si ingrassi Per poi richiuderci Non mi piace Però piuttosto lineare Comunque come cosa Bisogna fargli fare Una bella curva E giù nel mare E penso possa Venire un bellissimo effetto Un bellissimo Una bellissima Diciamo Scena Un panorama Insomma Quindi si mettiamoci Al lavoro Vi terrò aggiornati Step per step Come mi avete chiesto di fare Nei scorsi episodi Ok ho delineato Ma se gli alberi Li mettiamo dopo E se me li dimentico Gli alberi Cosa che potrebbe capitare Ricordatelo nei commenti No dico Non so Adesso in questo video Quando finiremo Sto progetto Ricordatemi di aggiungere Gli alberi Perché penso Sia un tocco Di Classe No di Quel tocco Che dici Mamma mia Che figata assurda XY Più o meno No E questo possiamo Anche lasciarlo Allora Saliamo sopra la montagna Punti di osservazione Ragazzi Quando costruite qualcosa In minecraft Bisogna sempre Guardare le cose Da tutti i punti di vista Possibile Possibili Possibili Casa mia Dov'è? Qua Proviamo a salire Sopra un albero No non siamo scimmie Non siamo nemmeno Assassin's Creed Mannaggia Quella serie di Assassin's Creed Mi sta facendo Bestialire Una scimmietta Quel cosa Allora Troppo largo Vediamo Parte da qui Qua si allarga un po' troppo Per i miei gusti Cerchiamo di stringerlo Si mi sa che lo stringerò Lo farò passare adiacente Ma non Non tangente Cioè Non toccherà la farm Farmo che comunque Prima o poi Leveremo da qui O la leveremo O la spostiamo Di qualche blocco Più avanti Ma così no E troppo troppo avanti Questo spostamento Non è autorizzato E quindi lo spostiamo Gne 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 g Ok, l'ho riempito e ho anche creato un po' di variazione diciamo nel bordi Allora, la maggior parte è terra che poi andrà piano piano qui tipo a riempirsi Magari anche andando a uniformare un po' qua la zona Magari qua ci metteremo anche altro grano perché penso che possa fare figo Quindi la maggior parte è terra, ho messo l'acqua così Qua c'è una piccola della serie, l'acqua scorre solo in questa direzione Perché non ho punti di appoggio di qua, quindi bah, dun no, dun no Però, però, di qua lascerò maggiormente cobblestone in questa zona Qui invece, magari ci metto terra ora Dove voglio lasciare cobblestone è qui, alla fonte tra virgolette Perché l'acqua scende da lì, quindi gg Allora, andiamo a vederlo un attimo, andiamo ancora a vederlo come l'ho fatto adesso Andiamo a vederlo da un alberello Subito dopo averlo visto prenderò del bone meal e andrò a devastarlo di roba insomma Lo devasterò decisamente di roba Ehm, e poi passeremo al ponte Penso vi farò vedere degli schizzi in, degli, oddio, degli, degli esperimenti Allora, considerando che tutta quell'erba diventerà verde, sarà tutto fappato di, di erba alta Ehm, mi piace, sono contento del risultato Sto pensando solo all'acqua, eh, non ancora agli algini Quelli, me ne occuperò in, eh, adesso in secondo luogo Ehm, sì, sì, sono contento dell'acqua Ci sarà, vabbè, la deve, come ho detto, deve, mh, trasportarsi il verde E poi sarà tutto molto più carino E il ponte lo si mette qua Lo si mette qua, probabilmente anche un po' in diagonale Tipo, non lo so, poi vediamo Dritto sarebbe l'ideale Però, magari se riusciano a farlo andare in questa zona qui Sarebbe figo Quindi, abbiamo un bel fiumiciatolo Che esce dalla montagna Quindi, ha un, ha un, ha senso Scende, scende, scende E trova una formazione rocciosa Che gli impedisce di filtrare E allora cambia percorso Cioè, ma dimmi se non penso a Dudo io No, ok, scherzavo Ehm Sì, buon mila la mano E riempiamolo di non so cosa Ok, smetto Ok, comunque è ufficiale Io odio i creeper Ma penso sia tipo Uno di quegli odi che non smaniranno mai Io stavo cazzeggiando qua dentro Beh, cazzeggiando Sto mettendo a posto le cose nell'inventario E niente, sento Allora mi giro di colpo Premo il tasso, adesso d'istinto Esplode questa zona qui Per fortuna solo questi due blocchi Sono andati a mancare E ho deciso di mettere Gli oak wood Perché non avevo uno di birch Quindi ho detto Fanculo, non lo faccio Cioè, in realtà ce l'ho Ma non avevo voglia di fare gli slab Mi sono cascate tutte queste ceste qua Queste qua davanti Queste qua Qua sull'i frame Frame E qua la cosa dell'ossidiana Di cui manca un frame Effettivamente questo frame Era dell'ossidiana Dammi una Ehm, ho iniziato a Ah, ecco qui Ora sembra quasi normale Più o meno E quindi qua ci mettiamo delle trap Dove anzi facciamole subito Perché lascia Lascia Cioè, lascia Guarda, se ti dico Lascia, lascia stare Lascia stare Ti dico Non lascia stare di più Guarda Guarda Di più proprio Hai visto quanto è di più Minghia Panico, pa, panico, pa, panico, paura Però un po' di terra magari Giusto due pezzi Perché se no dopo mi incazzo Ho detto Da stare nell'inventare Ok Guarda Puff, puff Era tanto difficile, Surreal Era tanto difficile Beh, in effetti Ecco, ora siamo Anti-dischio Però Però Ce l'ho delle fence Per provare una cosa Fensine Patatine Fa cagare No, no Ci sta Ci sta Strano Fottutamente strano Vabbè Ditemi cosa ne pensate Però Lo lascio così Perché non mi piace Avere lo spazio vuoto Là Fa troppo tipo Salone Western I don't know Allora Ho iniziato qua A Favare tutta l'erba E E' figo Guarda quanto è figo Però Voglio anche fare una cosa di questo tipo Dammi un po' di questi cosi 8 E voglio un po' anche delle rose Rose bush Eccolo qui E li andiamo a posizionare Sempre lì Per dare colore Per dare colore So che esistono anche altri fiori Però io devo ancora trovarli Quindi per ora Ci accontentiamo Qualcosa anche tipo qui Uno qui Qua Qui E uno qua vicino Giusto perché possiamo E già così penso sia estremamente figo E poi Poi Penso sarebbe Il caso di mettere Ehm Le Ehm La glowstone Sì La glowstone sotto Magari imbucata da qualche parte No Della serie che non si vede proprio la glowstone Però Magari Proprio imbucata Della serie con uno slab sopra Per evitare che si veda la glowstone Però Che ci sia luce insomma Io devo cuocere sta carne Perché le sto mangiando carne cruda Cioè Peggio di carne al sangue Mannaggia Voglio dire Surreal Un po' di Eh Sono otto pezzi Prendi un po' di carbon E kosheel Ah ecco qui Quindi Ehm Ora andrò a coprire anche l'altro lato Però direi che sta venendo bene Ci vorrebbe una bella visione dall'alto qui Purtroppo non ho un punto davvero alto Se non il campanile Sì il campanile Se non il faro Faro che purtroppo Non ha una via d'accesso fino in alto Cioè ci arrivo in alto Però c'è tutta la glowstone Quindi non riuscirei a vedere bene Deve arrivare fino al mare Ma devo ancora fare quella parte Anzi andiamo a mangiare velocemente Che sono qua Mi muoio male Mi muoio E anche male Grazie Un po' di carne Alleluia Thank you Ok Sono decisamente contento Del risultato Farò anche uno screen Perché screen 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 è meglio Perché screennato È meglio Ok basta E Niente si Manca la parte Finale Che lo congiungerà al mare Mi piace Mi piace Ora In quegli spot Che vedete là Verdi Ne metterò un altro paio Non ho terra Com'è ora Ma ne metterò un altro paio E sopra vorrei metterci Un volo dall'angelo No Vorrei metterci Il Lol Il Come si chiama Degli alberi Insomma Mi piacerebbe mettere Gli alberi Con Con le liane Perché sarebbe Estremamente figo Tipo palude No Tipo palude Però Dovei mettere Tipo Dovei Creare l'albero E poi andare manualmente A mettere Le cose Complessivamente È figo Mi piace anche La varietà Dell'argine Qui Un po' terra Un po' pietra Ecco Questo è più o meno Quello che voglio fare Mettere l'albero Così Qui in mezzo al fiume Perché fa estremamente figo So cool Ehm Niente Il prossimo passo sarà quello di andare a fare il ponte E il ponte come si fa? Lo faremo in legno Ehm Non so se qualche parte in pietra Ma penso principalmente in legno Ehm E sarà una cosa piuttosto Diciamo tendente Al Alla Non so come Diciamo Molto allungata come cosa Non voglio fare Una cosa tipo Ma una cosa tipo Capito Non No Non Ma Capisci È tipo una questione di onomatopeia Sì sì esattamente C'è del cibo qua Grazie mille Non è così efficiente come pensavo Dove metterci più polli Solo che non è non polli Vabbè Mangiamo 64 sti cosi E poi vabbè Ehm Allora la mia idea è fare una partita Tipo lì Fagli fare Un bel saltino E farò alterare lì Non è tanto la struttura del ponte Anche se potrei mettere una Tipo un sistema A due archi Nella serie Ho qualche blocco per dimostrarlo No Merda Tipo Blocco di partenza Blocco di sostegno nel mezzo Mezzo al fiume E blocco di atterraggio O di discesa Come potete chiamarlo Nella serie farà così E poi esce Ehm Dove farci alcune prove in Creativa Ehm Oggi pomeriggio Che è lunedì Cercherò di lavorare Merda ma qua io sto devastando la cosa Io non lo so No basta Ti butto perché mi sta antipatico Cercherò di lavorare a sta cosa Anche se devo Come ho detto prima Registrare Fabcraft Insieme a Vrent Ehm La serie sta piacendo un botto Siamo contenti Siamo contenti entrambi Ehm Niente Se riesco a sto punto Faccio un live Faccio un live E mi porto avanti così Magari registro durante il live Anche se non lo facevo da molto Ehm E' controproducente A dire il vero Perché la gente che guarda le cose in live E poi le guarda su youtube Però Vediamo cosa fare insomma Il ponte lo faremo più o meno grande Ehm Direi una corsia O a 3 O a 5 A 5 Deve avere qualcosa di gigantesco 5 sono tipo Da qui A qui No Più o meno E' una cosa piuttosto larga 3 è già più piccolino Però 3 dopo Non è abbastanza imponente Rispetto alla portata del fiume Perché guarda Cioè guarda Sto fiume Cioè Non è che piccolino voglio dire Ok effettivamente è un canaletto Però Però in proporzione Direi che i 5 vanno bene 5 blocchi di corsia Di corsia Poi in realtà è 7 Perché abbiamo 7 Perché abbiamo un blocco Da un lato E uno dall'altro Che fanno da contorno Quelli probabilmente li faremo Non lo so In stone bricks E poi ci sarà tutta la decorazione sopra Ehm Sarebbe figo fare una cosa tipo Tipo Avete presente Harry Potter No Harry Potter Quando c'è la scena Inizio a salutare E voglio ringraziarvi davvero per tutto Il feedback che mi state dando Sia aiutandomi qui nelle decisioni della mappa Sia anche come risponso di mi piace Di condivisione di roba Davvero Grazie mille a tutti Non mi resta che salutarvi di iscrivervi di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui prossimi video vi ricordo che ci sono anche altre serie attive sul mio canale Alle 4 c'è assassin creed 4 che mamma mi sto impazzendo ultimamente un casino sono negato per quel gioco Però almeno mi sto divertendo a giocarlo è davvero molto molto divertente E alle 7 a giorni alterni c'è fabcraft un giorno sul mio canale e un giorno sul canale di brand che è comunque per appunto minecraft Io vi saluto Ciao Trututututti